Cultura sostenibile si lega al nostro vivere in questa terra che abbiamo scoperto avere dei limiti e questi limiti vanno aumentando rispetto anche alla nostra relazione con lo spazio, la nostra relazione con l'ambiente. Quindi la cultura sostenibile devo dire che appunto sta emergendo con grandissima forma e rispetto al passato è diffusa, per cui non soltanto fra gli esperti e coloro che si occupano di questo contesto mai emerge nell'ambito più ampio della popolazione che abita questo spazio. Questo evento trovo già, il fatto di essere qui sicuramente mi vede già come dire in una condizione positiva di accoglienza, ma trovo sia fondamentale perché probabilmente è l'elemento che maggiormente può condurre a assumere tutti un atteggiamento positivo rispetto al nostro contesto e quindi all'ambiente che non è solo appunto una sostenibilità ambientale ma anche sociale e culturale, deve essere sostenuta da eventi di questo tipo perché soltanto la diffusione di questa cultura, cioè l'apertura e il parlarne conduce sicuramente a trovare delle risposte.